Il Grande Gatsby, romanzo scritto nel 1925 dal famoso autore americano Francis Scott Fitzgerald. Il Grande Gatsby è un affresco dei famosi anni venti americani. L'ambientazione e la rappresentazione descrivono perfettamente l'età del jazz. Ci sono molti elementi autobiografici al suo interno, come il desiderio di ascesa sociale, l'inizio dell'alcol e le relazioni amorose tormentate. Ho conosciuto questo libro grazie al consiglio di un'amica. La storia affascinante, la curiosità che viene continuamente stuzzicata, mi ha portato a scegliere questo libro fra tanti. Il simbolo del libro è la lucente e color crema automobile del protagonista che tanto affascina gli abitanti di Long Island. Gli ingredienti fondamentali sono senza l'invio, la risposta realisticità con cui vengono resi gli eventi, e il protagonista Jay Gatsby, personaggio affascinante e allo stesso tempo misterioso. Ma io avevo di qui tante sensazioni che nascondesse un segreto.